Hi guys, io voglio lasciare un po' al silenzio di Chicago ma c'è il nostro Fido Cecere che rompe sempre i coglioni ma no io sai perché volevo fare un video non muto perché mi volevo ricordare i tempi del cinema muto capito qua a Chicago con Al Capone con Rodolfo Valentino comunque ragazzi siamo finalmente arrivati a downtown il milanium park e niente ora stiamo andando a mangiare speriamo qualche cosa di pesce una trota comunque guardate che bellissimo questo lago Michigan questa è pure la barca di Andrea un saluto alla farmacia Bassi colgo d'occasione al nostro amico Ciruzzo ciao Cirù vabbè Cirù noi ci andiamo a mangiare una trotina ti lasciamo con lo scorcio del lago Michigan see you